Da molto fastidio anche perché si guardiamo diciamo tutta la settimana è stata diciamo una settimana in cui abbiamo prodotto molto e raccolto veramente pochissimo a partire da Salerno che insomma dopo un primo tempo normale abbiamo fatto un secondo tempo grandissimo e meritavamo sicuramente di ottenere i tre punti per poi andare a Genoa a giocare con una squadra di Serie A e insomma passare in vantaggio e poi purtroppo diciamo perdere la partita e per finire ad Empoli dopo un'ottima partita direi in cui solo diciamo gli interventi del portiere avversario ci hanno negato di portare quasi tre punti soprattutto poi così al novantesimo insomma fa male però questo diciamo ci ha feriti sul momento ma ci ha dato forza per affrontare questa settimana al massimo e sapere comunque essere consapevoli di quello che abbiamo fatto in questa settimana dei miglioramenti comunque che ci sono stati e affronteremo ora il Cittadelli in casa col coltello tra i denti. Cosa non ha funzionato su quella punizione al novantatresimo? Beh è difficile dirlo forse c'è stato un piccolo callo di attenzione sicuramente il loro attaccando era sul filo del fuorigioco è stato anche bravo poi quando si è trovato lì la palla ad insaccarla però ripeto questi cali di attenzione diciamo non ci devono essere soprattutto perché compromettono poi un'ottima partita all'ultimo momento ma mi sono trovato bene ma sinceramente per quanto mi riguarda non è una questione di moduli insomma dipende dall'atteggiamento che con cui si scende in campo e penso che in queste ultime partite ci sia stato comunque un miglioramento e l'atteggiamento sia quello giusto e bisogna continuare così questa è la strada l'abbiamo imboccata continuiamola anche se non abbiamo ottenuto in questa settimana dei buoni risultati ma sicuramente li otterremo in futuro ma sinceramente non penso a queste cose non ci penso penso a dare il massimo quando vengo chiamato in causa insomma ringrazio il mister che mi sta dando continuità e cerco di diciamo di mettere me stesso al servizio della squadra e al servizio dell'ascoli appunto ma del rendimento sì semplice potrei essere più soddisfatta se avessi trovato il gol insomma perché più che per una cosa personale per una questione di squadra e di punti perché sicuramente manca a dare al momento qualche gol dei centrocampisti potrebbe aiutare sicuramente ad aver ottenuto qualche punto in più mentre ormai cittadella diciamo una squadra affermata per la categoria sappiamo benissimo gli ottimi risultati che hanno ottenuto in queste ultime stagioni perciò li affrontiamo con la massima umiltà però consapevoli di quello che abbiamo fatto in queste ultime partite e consapevoli che giochiamo in casa con i nostri tifosi e lotteremo per ottenere i tre punti